domenica live cecilia capriotti e il confronto con eva engril canna gate dell'isola dei famosi si arricchisce di nuovi particolari a domenica live cecilia capriotti ha rivelato che eva aveva denunciato il fatto prima della diretta della seconda puntata e secondo quanto riferito dalla showgirl le telecamere hanno ripreso tutto cecilia inoltre aggiunto che francesco monte era a conoscenza della denuncia fatta dall'ex attrice poco prima della diretta quando il gruppo si è riunito ho avvertito francesco di quello che era successo nella nostra isola e lui sapeva già tutto ha spiegato la capriotti che nonostante questi nuovi dettagli ha ribadito per l'ennesima volta di non poter appoggiare del tutto eva perché non ha visto di fatto la marijuana in honduras io con i miei occhi non ho visto la canna ha assicurato cecilia cecilia capriotti parla di francesco monte a domenica live cecilia capriotti ha inoltre confidato a domenica live che dopo la denuncia di eva engher in diretta francesco monte è stato male la seconda settimana siamo stati sulla stessa isola e lui era provato era molto preoccupato per il papà e il fratello ha confessato cecilia che prima di partire per il reality show si è confidata con l'ex tronista di uomini e donne sul problema degli attacchi di panico cecilia ne soffre da quando era adolescente a causa della prematura scomparsa del padre mentre monte ha cominciato ad averne dopo il tradimento di cecilia rodriguez al grande fratello vip scomparsa del padre scomparsa del padre a scomparsa del padre scomparsa del padre 6 6 Grazie a tutti.